E' unto con l'unzione per annunziare ai poveri la lieta novella, per dire ai prigionieri uscite, per fasciare le piaghe dei cuori spezzati, per dare una veste di gioia invece di abito e di lutto, per mettere sulla bocca un canto di letizia invece di un lamento. Grazie Signore Gesù perché Tu subito entri in argomento, Tu sei venuto per compiere questa Tua missione, per annunciare ai poveri il grande messaggio, la lieta novella. Il Padre Ti ha mandato qui in mese a noi a portare il lieta annunzio, l'annunzio della vita, e Tu sei venuto per fasciare le piaghe dei cuori spezzati, per proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, per promulgare l'anno, l'anno del Giubileo, il Giubileo perenne, il giorno Tuo per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion. Per dare loro una corona, invece della cenere, olio di letizia, invece dell'abito di lutto, e canto di lode, invece di un canto mesto. O Signore, noi Ti rodiamo e Ti benediciamo, perché Tu sei venuto in mese a noi liberazione, guarigione e consolazione. Resta sempre in mese a noi, resta sempre in mese a noi, o Signore, per liberare, per guarire, per consolare. La breve preghiera introduttiva del nostro corso, ci sediamo un momento per concordare le premesse del corso, e poi diamo inizio con l'introduzione. Ecco, vorrei che fossero notate le presenze, adesso passerà la nostra sorella che, e siccome a livello di Gisano, i gruppi che esercitano il ministero di intercessione, è bene che inviano almeno qualcuno per, così, per apprendere qualche cosa, per informarsi di qualche cosa, e poi riferire in gruppo. Comunque ringraziamo il Signore, e adesso ai gruppi si può dare anche un... uno per gruppo, se è introduttivo, se è uno per gruppo, dare uno per gruppo. Prima di iniziare vorrei dire una parola, ed è questa che noi formiamo in questo momento una comunità, ossia ma non siamo tante persone che vengono da diverse comunità, ma in questi momenti, in questi tre giorni, vorremmo che noi fossimo una sola comunità, ossia la comunità degli intercessori. Io ho cercato intercessori e non ne ho trovati. Ecco, il Signore cerca i intercessori e non ne trova. Chiedevo chi intercedesse, mi sono dato da fare tutto il giorno con la bocca aperta e non ho trovato nessuno. Invece noi possiamo rispondere al Signore, Signore, eccoci. Siamo un gruppo di intercessori e vorrei che maturassi noi in questi tre giorni la coscienza di essere una comunità di intercessori, ossia la comunità diocesana di coloro che intercedono notte e giorno. Intercedono per tutti i malati che sono nella diocesi, per tutti i sofferenti, per tutti gli oppressi, per tutti gli afflitti. Sentirsi una comunità orante, una comunità di intercessione, pregare tutti insieme per i sofferenti, certamente vale più che una singola persona che preghi. e allora chiediamo al Signore di coscientizzarci come comunità orante, come comunità di intercessori, almeno in questi tre giorni, a prescindere dai gruppi di appartenenza. Noi siamo in questi tre giorni una sola comunità, la comunità diocesana degli intercessori e, più in modo specifico, una comunità di consolatori. Vogliamo consolare il tuo popolo. Consolate, consolate il mio popolo. Queste cose dice il Signore. Qual è il programma? Ancora non abbiamo fatto l'introduzione. Il programma è questo, ce l'avete qui davanti ai vostri occhi. Se qualcuno vuole anche qualche depianto può prendere. Misure che mancano, io ce l'ho appena uno, ne posso dare un altro. Ma tu ce l'hai, no? All'oggi ci sono. Programma, programma. Questo soltanto c'ho io. E allora abbiamo l'accoglienza alle ore quindici di ogni giorno, pomeriggio. Incominciamo oggi pomeriggio e finiremo domenica a misogiorno. Per cui sono tre giorni pieni. Poi mezz'oretta di preghiera, poi l'introduzione, l'introduzione ha come insegnamento la solitudine dell'uomo oggi. È un tema fondamentale che abborderemo, non svolgeremo tutto. Poi abbiamo un insegnamento di Dio che consola e trasmette il dono di consolare gli altri. Vedremo come distribuire nel tempo questi due temi fondamentali, usufruendo sia del momento dell'insegnamento, sia dell'omilia, sia di altri momenti che potremo sfruttare. Comunque il tema fondamentale proprio di oggi è Dio che consola l'uomo solo e chiama noi a consolare gli uomini soli in questo mondo. Questo è il tema generale. Vediamo nella conversazione che tempo noi abbiamo. Poi dovrebbe venire qui Enzimburgia che ci dovrebbe parlare di un ministero di consolazione in tutti i gruppi della Diocesi come cioè nei diversi gruppi della Diocesi si possa istituire comunque dal luogo ad un ministero piccolo o grande che sia di consolazione. Poi c'è pausa e quindi concluderemo con la Santa Messa. Domani l'accoglienza sarà alle ore nove alle nove e trenta la priera ci sarà un insegnamento l'insegnamento e la consolazione divina passa attraverso il mistero della croce ed è lo specifico della consolazione cristiana che è diversa dalle altre consolazioni. e qui entriamo alle acque di Mara vi parlerò domani delle acque di Mara poi c'è il simposio che cos'è il simposio potremmo anche distribuire stasera i simposio il simposio è sulle dodici sorgenti di Elim ossia le fonti della consolazione poi vedremo se ci sarà tempo per un simposio sulle dodici beatitudini come dodici sono otto ne mettiamo dodici perché nel Vangelo ci sono altre quattro beatitudini sparse qua e là per esempio beati coloro che ascoltano la parola di Dio e le mettano in pratica beati coloro che il Signore troverà d'este al momento della sua venuta e così sono altre quattro beatitudini l'ideale è poter fare simultaneamente questi simposio cioè sei simposi al mattino sei simposi pomeriggio e poi vedremo se ci sarà posto per i simposi sulle beatitudini in modo da avere così un quadro completo sei beatitudini al mattino sei beatitudini alla sera vedremo il tempo disponibile perché ci troviamo a corto di tempi con una con un volume di insegnamenti di istruzioni di catechesi e poi di regressioni più vasto del tempo che abbiamo a disposizione ma non potremo dire tutto vedremo se domani la Liliana Capitumina ci farà l'insegnamento sulla consolazione nello spirito delle beatitudini cioè le beatitudini sono veicolo di consolazione perché in ogni beatitudine c'è il volto di Cristo che compare e consola l'uomo solo poi il sabato avremo pure due insegnamenti l'animazione della preghiera di consolazione che lo affideremo a Alfredo di Bianchi che è animatore qui diocesano del ministero poi il pomeriggio faremo o una mistagogia quella è buon samaritano oppure sceglieremo la mistagogia di Agar e Ismaele oppure se credete meglio continueremo i simposi sulle beatitudini io potrei testare un po' il polso a tutti per vedere cosa convenga fare ci sarà poi l'intervento musica e canto nella preghiera di consolazione di Beniconte la domenica ci sarà lo stesso degli altri giorni alle dieci un insegnamento che dovrebbe essere tenuto da Giusti Dragotta che titolare del mistero di catechese e insegnamento questo Maria madre della conservazione e poi la conclusione sarà con la santa messa alle ore undici bene noi in questi due giorni cioè domani e post domani se volete potete fare colazione a sacco se non volete fare consolazione a sacco tornate alle vostre case e poi ritornate qui per le ore quindici come credete meglio non possiamo fare qui il pranzo perché non siamo ben attrezzati ma forse con questo tempo freddo un pentolone di di minestra non sarebbe stato male a mezzogiorno anche quando ha fatto colazione a sacco ma se noi vediamo che sono pochi quelli che si fermano per consolazione a sacco faremo così un pentolone di minestra con le fave o con i ceci per essere così riscaldati vedremo io sto scrivendo un libro che già è qua questo libro pronto che viene intitolato qui seminario di consolazione ed è tutto quello che abbiamo fatto a Percusa da questo seminario di consolazione che è risultato molto bello perché la benedetta figlia che ha sbobbinato ha dovuto fare un lavoro enorme ma dove ha notato anche i punti in virgola di quello che si è fatto da questo seminario di consolazione noi trarremo il libro cioè gli insegnamenti che già sono quasi pronti e che formeranno così oggetto anche in parte della nostra riflessione in questi giorni vedete noi faremo come programma in questo libro prima un'introduzione sulla consolazione poi la solitudine oggi il problema sociale della solitudine poi la solitudine diciamo mistica che è un'altra forma di solitudine una solitudine purificatrice opere di Dio poi abborderemo il tema della consolazione Dio che consola il Padre che consola il Figlio che consola lo Spirito santo che consola poi l'uomo che consola la consolazione può venire dalla terra dal basso può venire dal lato consolazione umana può venire dall'alto consolazione divina la consolazione che noi diamo è la consolazione divina poi ci sposteremo alle acque di Mara infatti il titolo del libro è preghiera di consolazione Mara e le dodici sorgenti di Elim Mara e le dodici sorgenti di Elim Mara ci introduce nel mistero della croce cioè la consolazione cristiana passa attraverso la croce poi le fonti della consolazione le dodici sorgenti sotto le settanta palme che sono che la comunità degli anziani nel grande permizio di Elim le dodici sorgenti incominciano tutti con la P sono i dodici pozzi posto primo posto secondo posto terzo posto quarto come se fossero i pozzi di un decimento petrolifero invece sono i decimenti di una sorgente di acqua pura la cui radice profonda è il cuore di Cristo che sbocca in dodici sorgenti a questo sorgente noi attingeremo sono i pozzi preghiera comincia con la preghiera e è felice con la parousia l'ultima sorgente e poi preghiera penitenza tutti con la P cominciano dodici sorgenti di Elim poi vedremo ancora le beatitudini nelle beatitudini vedremo comparire il volto di Cristo beati poveri Gesù povero Gesù mite Gesù afflitto Gesù misericordioso abbiamo così le dodici beatitudini computando le 8 più le 4 che sono manifestazioni della persona consolata in Cristo la consolazione passa attraverso le beatitudini poi vedremo in ultimo due belle figure gli angeli consolatori e Maria consolatrice la Madonna che consola gli angeli che consolano sono sono così corollari di questo tema della consolazione ma non corollari tanto per dire per completare perché il ministero di Maria è un ministero di consolazione e perché gli angeli santi di cui oggi si parla o a dritto a torto e a bambera anche ho per le mani tre libri eretici sulla consolazione ieri sera ho letto uno tutto di astrologia scritto da un diavolo e vanno sono venduti in tante librerie perché c'è un inquinamento della nuova che sfugge a noi ma è un inquinamento grave per cui tanti fedeli compriano queste libri quelle che sto leggendo è l'angelo custode tu puoi contattare l'angelo cinque volte all'anno perché nello zodiaco comparisce cinque volte all'anno quello tuo però puoi provocare la sua presenza con alcune irrite eccetera eccetera noi parleremo degli angeli consolatori secondo la dottrina cristiana il corso sarà invece tratto da questo libro e sarà diviso in insegnamenti in simposie e poi vedremo qualche altro momento vorrei fare qualche preghiera di guarigione interiore o qualche epistagogia secondo l'opportunità così vi ho detto un po' il programma che noi svolgeremo degli insegnamenti degli interventi e adesso se il tempo ce lo consente vogliamo ormai introdurre il nostro tema che è il tema appunto della solitudine dell'uomo il Signore dice consolate consolate il mio popolo il nostro Dio è un Dio che consola il filone della consolazione attraverso tutto il vecchio testamento ci sono nel vecchio testamento due libri di consolazione il Deutoresaia da 40 a 55 e anche Geremia questo profeta di sventure ha un piccolissimo libro di consolazione capitolo 30 e 31 che portano appunto questo titolo libro delle consolazioni però in tutte le scritture del vecchio testamento passa questo filone della consolazione finché a bordo al nuovo testamento dove c'è il consolatore promesso il mio consolatore uscirà da Sion Dio già lo preannunzia in Noè sapete che significa Noè significa consolatore Noè che salva il popolo così salva l'umanità nell'arca l'arca la chiesa Cristo è rappresentato in Noè il consolatore i genitori i genitori su meglio Lamec suo padre gli emise il nome Noè che significa Noach significa consolare costui ci consolerà per cui già nel primo personaggio che troviamo nella storia sacra che rappresenti Cristo salvatore questo personaggio porti il nome di consolatore finalmente questo consolatore già preannunciato nella figura di Noè ma tante volte annunciato dai profeti viene ed è l'Emmanuele Dio con noi e gli consoli il popolo per tre anni muore sulla croce e promette prima di andare al padre un altro consolatore ossia il consolatore perfetto dolci ospite dell'anima consolatore permanente che sta dentro di noi paraclisis significa appunto consolazione ed allora da quando lo Spirito Santo è sceso dalla Chiesa la consolazione è permanente nella Chiesa noi abbiamo lo Spirito di consolazione secondo quanto aveva profetato Zaccaria la capitolo 12 dove dice io manderò il mio Spirito di consolazione e vedranno nello Spirito di consolazione a colui che hanno trafitto perché da colui che abbiamo trafitto proceda la consolazione di Dio per cui Dio consoli il suo popolo il Dio nostro Dio è un Dio consolatore e chiama la consolazione anche noi lo vedremo più tardi quando Enzo ci parlerà del ministero di consolazione che deve fiorire in tutti i nostri gruppi perché oggi il mondo ha bisogno di consolazione e qui entriamo appunto nel primo argomento nel primo insegnamento introduttivo che è la solitudine dell'uomo l'uomo oggi è solo e chiede consolazione consolazione non le trova cerca di trovare l'altrove ma non trova consolazione né in basso né in alto né dentro né tre parametri né tre parametro Y negli altri né parametro Z in alto né nel parametro X cioè in sé stesso e allora resta depresso e prende la via della solitudine perniciosa che può condurlo alla disperazione e qualche volta in casi rari ma in tanti casi a suicidio questa è la condizione dell'uomo d'oggi e allora la solitudine oggi viene chiamata il problema del secolo forse è esagerato però ci sono quelli che chiamano il problema sociale del secolo questo perché perché c'è mancanza di sicurezza guardate i giovani guardate le ragazze ossia il mondo giovanile accusa questo senso di solitudine di smarrimento di insicurezza io noto che sono difficili oggi i fidanzamenti stabili e i patrimoni stabili perché manca il senso della sicurezza ti coglie sempre la solitudine anche quando tu hai un compagno o una compagna ti coglie la solitudine hai la solitudine che tu la porti nel cuore come una compagna nel viaggio è scritto che si nasce soli e si muore soli per cui la solitudine già la portiamo almeno latente almeno lo stato potenziale dentro di noi e quando l'uomo si trova deluso si trova deluso dall'ambiente in cui vive deluso degli uomini si trova sfiduciato non ha dove riporgiare il capo si chiude in se stesso come una chiocciola e resta solo si chiude nella sua solitudine ma l'uomo dentro di sé non trova la vita ed ecco perché si dispera è un dato di fatto lo vedremo meglio secondo i dati dell'istat che oggi tanti uomini e tante donne chiusi nella solitudine non trovano pace e il mondo occidentale ha dato luogo a una malattia tipica che è la depressione prima c'era c'era la depressione ma adesso in questo secolo è aumentata enormemente nel mondo occidentale il 50% della popolazione mentre i dati parlano del 60% soprattutto degli strati più evoluti comunque il 50% della popolazione è depressa più o meno gravemente per cui è la malattia del secolo questo si è la depressione è chiaro che i casi di depressione grave non sono molti ma un grado di depressione cede il 50% della popolazione italiana e della popolazione occidentale in genere ecco questo è frutto della solitudine che non ha trovato né in alto né in basso né da lato non ha trovato un tuo luogo di rifugio l'uomo si è ritrovato solo è rimasto deluso sfiduciato ma vogliamo andare per ordine quando noi parliamo di solitudine pensiamo subito ad una distesa arida di terra pensiamo al deserto biblico alla steppa luogo arido senza acqua in ospitale perché infruttuoso è frequentato come dice la scrittura da animali nocivi iene sciacalli serpenti velenosi ed ha anche frequentato dei demoni a sasello nel deserto a smodeo nel deserto e anche Gesù nel deserto incontra Satana questa è la solitudine è una solitudine geografica ambientale che però le scritture assumono come simbolo di un'altra solitudine per cui parlando di solitudine noi subito pensiamo sia alla solitudine materiale ma pensiamo a un'altra solitudine la solitudine morale la solitudine spirituale che è simboreggiata nel deserto nella desolazione nella terra arida e senza acqua le scritture ci presentano una solitudine morale o spirituale come situazione di castigo dato da Dio a una popolazione infedele o dato da Dio ad un singolo individuo malvagio ecco il profeta Isaia parlando di Babilonia infedeli a Dio oppresso con la guerriglia che ha oppresso Israele e tanti altri popoli che è stata attitolata Dio l'abbandona alla solitudine le tue città saranno devastate non saranno più abitate i gufi le civette gli sciacalli faranno abitazione nei tuoi palazzi sarai condannata alla solitudine anche Edo anche il monte Seire dice il profeta Ezechiele sarà condannata alla solitudine per l'amarizia dei suoi abitanti dunque è un castigo che Dio riserva a popolazioni infedeli e dobbiamo fare una parentesi chissà che questo senso di solitudine non sia un castigo di Dio a una popolazione infedele ad un popolo che ha trasverito le leggi del malvagio ricordate il bellissimo testo del profeta Geremia 17 dice il malvagio l'empio è come un tamarisco nel deserto quando viene bene non lo vede e non darà frutti non dà frutti perché è come un tamarisco nel deserto è infruttuoso così è l'empio perché Dio castiga l'infruttuosità l'infruttuosità è la caratteristica di che è nella solitudine morale e spirituale e spirituale però come vi dicevo questa solitudine materiale che viene vista anche come castigo di Dio per popolazioni e per individui è una solitudine che ha una sua collocazione della nostra società vi dicevo che è il il fenomeno caratteristico del nostro secolo quali sono le cause le cause della solitudine vogliamo un po' individuare queste cause e queste forme di solitudine innanzitutto possiamo saberire questo è l'ambiente stesso che crea solitudine è curioso come in una civiltà così evoluta qual è la nostra tecnicamente e scientificamente capace di offrire spazi a tutti per inserirsi nel suo contesto è raccapricciante notare che l'uomo si sente solo solo dovunque guardate un segno tipico la televisione la televisione che dovrebbe essere legame tra gli individui diventa mezzo di disunione di isolamento non c'è strumento più isolante dello strumento inventato per creare legami per creare solidarietà e informazioni la televisione per cui l'ambiente stesso in famiglia eccoci sono due o tre televisioni il papà si vuole vedere alla partita e alla sua televisione mentre la moglie vuole la tele novela e allora due apparecchi ognuno per conto proprio i figli vogliono vedere anche programmi più spente e allora una televisione per i figli tutte e tre vedono la televisione papà è una parte la mamma è un'altra parte il figlio è un'altra stanza e non colloquiano mai tra di loro sono assorbite dalla televisione la televisione che dovrebbe essere mezzo di unione che dovrebbe creare con l'informazione dei legami invece è elemento di divisione non c'è più isolante che un apparecchio televisivo per cui il benessere il benessere che dovrebbe dare a tutti modo di trovare il proprio posto di godersi la vita di stare in comunione con gli altri il benessere crea divisione perché c'è la lotta per la vita ognuno cerca di essere in uno stato migliore dell'altro e allora ecco la lotta la lotta in cui il più debolo dà posto al più forte il più astuto ha potere sul più ingenuo e allora l'ambiente l'ambiente evoluto in cui ci troviamo crea divisione altro elemento scatenante la solitudine è la malattia la malattia isola quanti malati ci sono oggi la malattia la malattia nonostante la scienza che ha prestato mezzi tecniche che ha prestato i luoghi dove stare insieme la malattia resta sempre isolante cioè l'uomo con la malattia si sente solo isolato dagli altri tante volte la malattia così isola in un letto il povero malato il quale cerca comporta e non ne trova alle volte ci si stanca nello stare vicino all'ammalato ed anche quando stanno insieme gli ammalati difficilmente arrivano a qualizzare tra di loro a meno che non abbiano una grande fede a meno che non si crei un clima adatto per fare comunione ma in genere l'ammalato sia in casa sia nelle cose siede gli ospedali a causa proprio della malattia resti isolato un'altra causa di solitudine la solitudine forzata pensata alle carceri nostre sono di curgitanti e di detenuti senza contare tutti quelli che sono agli resi domiciliari vedete la solitudine dei carcerati è penosa per cui mettiamo qui la solitudine per il benessere la solitudine in famiglia la solitudine nel corsiere degli ospedali per malattia la solitudine dei carcerati ma andiamo un altro fenomeno secondo i dati dell'istat sono 4 milioni gli italiani che sono soli o per scelta volontaria o per scelta quatta cominciamo con il fenomeno dei singles le persone singole ci sono persone che vogliono stare sole per scelta non per una scelta religiosa ma per una scelta così capricciosa diciamo persone che vogliono stare sole potrebbero sposare no vogliono stare solo sono un milione circa in Italia secondo i dati dell'istat che sono persone sole per scelta uomini e donne vogliono stare solo ma ci sono quelli che hanno una solitudine coatta le vedove bianche ci vedo donne sole abbandonate le mariche sono molte 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 e anche i uomini abbandonati nelle moglie che non ci danno pace ecco abbiamo delle solitudini create dall'ambiente oppure scelte dagli uomini come vedete ho accennato ad alcune forme di solitudine tutto questo forma un esercito imponente di uomini soli in una società in cui il vereno della solitudine è già entrato perché nelle case stesse quelli che non hanno una condizione di solitudine hanno uno stato interiore di solitudine nelle famiglie mariti e moglie che vivono insieme ma sono soli moglie che piangono furtivamente perché perché il marito non li comprende perché il marito li tradisce perché il marito li disattende uomini che piangono anche e le donne non se ne accorgono perché stanno di qua e di là gli uomini i quali piangono furtivamente perché non trovano la donna adatta che accudisca a loro e lo cercano altrove senza pensare ai giovani nelle discoteche che sono soli e vanno in discoteca appunto per fugire a loro solitudine allora vediamo quali sono le vie scelte dagli uomini per uscire dalla loro solitudine eccetto un fenomeno quello della solitudine un fenomeno imponente che viene così definito da tanti sociologi ve l'ho detto come la malattia del secolo come il fenomeno del secolo come il problema del secolo quali sono le vie che gli uomini scelgono per uscire dalla loro solitudine ci sono tre vie la prima via è la via chiamiamo la via bassa cioè l'uomo cerca di stonarsi e cerca nel piacere nell'avere e nel successo di uscire dalla sua solitudine e coloro il mo' costume che alligna tutti i problemi sociali che noi oggi notiamo la delinquenza la mafia la pornografia e tutti questi fenomeni che sono inquietanti perlomeno sono a ricerca dell'uomo e del basso per evadere dalla propria solitudine per tornarsi questo baccano che gli uomini amano la musica rock questa musica assordante le discoteche questa fuga degli automobili delle motociclette così lanciata all'impazzata sono sintomi di una fuga che l'uomo oggi vuole fare da se stesso dalla propria solitudine l'uomo in fuga continua cerca 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 e non trova è una via che non trova soluzione perché la solitudine dell'uomo è di altra origine la solitudine dell'uomo è di ordine spirituale che non può essere compensata dai beni materiali l'uomo crede in questa compensazione ma non trova compensazione e allora ecco un'altra via che tenta l'uomo ed è la via verso in alto l'uomo scopre la sua vocazione alla vita spirituale perché l'uomo è essere spirituale è essere religioso oggi nel mondo assistiamo a un fenomeno strano accanto all'errorismo c'è lo spiritualismo e la chiesa oggi si trova a combattere più che contro l'errorismo contro lo spiritualismo cioè l'uomo è religioso e cerca così una via religiosa per evadere nella sua solitudine e trovare dove aggrapparsi ecco allora le sette le sette esoteriche che sono in Italia circa mille e nel mondo diecimila mille sette esoteriche perché una si compone e si scompone e dall'uomo un'altra è un fenomeno di così che inquietante perché l'uomo non è mai contento non trova in una sette e va in un'altra sette ma poi ci sono quelle sette forti che coaptano tanti e tanti individui pensate a sociologi che promette all'uomo così la salute promette ad un livello superiore di coscienza di toccare così il cielo pensate questo fenomeno del del New Asia New Asia che convoia più di 25 milioni di adepti nel mondo e che è diffusissimo però è così capzioso che noi non ce ne accorgiamo non ce ne accorgiamo c'è qui in Italia c'è qui a Palermo non ce ne accorgiamo i libri sugli angeli sono patrocinati dal New Asia entrate in un negozio e voi trovate i simboli del New Asia comprate prodotti marcati in New Asia non ce ne accorgiamo programmi televisivi dove entri New Asia e così tant'altro sette ora ecco una via la via dello spiritualismo e del neopaganesimo per cui l'uomo cerca una religione una religione sua la religione del 2000 ma cerca una religione al cui centro c'è l'io non più Dio sono io il mio salvatore sono io che mi creo la felicità però a lungo andare si accorge che questa felicità non viene e allora non trova felicità nel basso non trova felicità nell'alto solitudine in basso solitudine in alto e si richiude come una chioccia in se stesso l'uomo in se stesso trova tenebra trova il male la radice di ogni male in suo cuore e allora entra in depressione entra in una maggiore solitudine sono le tre vie sia quelle che conduce in alto sia quelle che conduce in basso sia quelle che conduce dentro sono le vie fallimentare per l'uomo di uscire dalla propria solitudine e il problema resta il problema resta e allora in questo problema che resta qual è la soluzione la soluzione vera la soluzione la dà Dio Dio ha creato l'uomo non per essere solo e il peccato il grande cioè il grande autore della solitudine dell'uomo perché il peccato perché il peccato che disgrega abbiamo le quattro dimensioni del peccato il peccato è disgregante mentre l'amore è unificante guardiamo adesso un momento all'uomo quando Dio lo creò lo creò in uno stato di amicizia con lui Dio riposò dalle opere della sua creazione e riposò dove? Riposò nel cuore dell'uomo l'uomo si svegliò si toccò il cuore e ritrovò Dio Dio nel proprio cuore e Dio mette fuori ogni solitudine perché Dio è amore Dio è comunione ma quando l'uomo perde con il peccato il contatto con Dio e entra nel cuore dell'uomo la solitudine l'uomo non è nato per restare solo Dio gli crea la compagna quando Adamo si sveglia lui che aveva cercato un essere simile a sé quando si sveglia e trova Eva grida con la gioia abbracciandola ecco carne della mia carne osso del mio osso ed è felice è felice di dentro è felice di fuori ha Dio nel cuore e attorno a sé trova una creatura simile a sé è felice perché è in comunione ma quando l'uomo commette il peccato ecco la solitudine Dio lascia l'uomo l'uomo si trova senza Dio l'uomo incomincia ad altercare col proprio prossimo il primo alterco viene tra Adamo ed Eva si accusano a vicenda si separano sentono vergogna l'uno dall'altro si nascondono l'uno dall'altro fuggono Adamo da Eva Eva e Eva da Adamo ma la prima grande fuga la ricerca dall'autoritudine esplode in Caino Caino che uccida bene i primi tuoi fratelli si odiano quando Caino uccida bene e allora sente nel cuore il rimorso che lo sconquassa perché il peccato ci toglie Dio ma sconcasso l'uomo nella sua dimensione psicologica sconquassa l'uomo già Adamo aveva sperimentato questo aveva perduto Dio aveva perduto la sua compagna aveva perduto il suo contatto con il mondo con il cosmo gli animali si ribellano dall'uomo fuggono dall'uomo mentre prima l'uomo li nominava perché c'è questo questa divisione anche dal cosmo nella dimensione cosmica proprio del peccato qui Acheino fugge ecco io sarò un ramingo e fuggiasco sulla terra e vuole il segno di Dio sulla fronte e va a fuggiasco fugge dal contorce degli uomini teme che qualcuno lo possa incontrare già gli uomini cominciano a moltiplicarsi qualcuno mi ucciderà ha la paura addosso cammina fuggiasco ramingo dalla solitudine è il segno dell'uomo dell'uomo peccatore dell'uomo che porta il peccato dell'uomo che è stato divorato dall'odio che fugge dalla solitudine l'uomo diventa solo e così col provvedire della società perché l'uomo Dio aveva detto crescete moltiplicatevi l'uomo si portivica dal luogo alle tribù ai clan dopo i clan alle nazioni dal luogo alle civiltà dal luogo a tutte le scienze a tutte le arti a tutti quei mezzo di sviluppo però dentro il cuore dell'uomo c'è sempre il filone della solitudine gruppi di uomini che si separano uomini che evadano dalla società e cercano la solitudine a causa del peccato primo o del peccato della società un proprio defugio e l'uomo non lo trova è in questo mondo sconpassato è in questo mondo di fugiaschi che cerca pane profete Isaia 19 portate pane agli affamati portate un bicchiere d'acqua agli assetati in questo in questa società di assetati e di affamati in questo mondo sconpassato entra Cristo l'uomo vero l'uomo che raduna i dispersi di Israele i dispersi nel mondo li raduna in sé nel suo corpo che diventa poi la Chiesa luogo di comunione raduna in sé ricreando la comunione con Dio e la comunione con gli altri tutti gli uomini per cui Cristo è la comunione degli uomini soltanto in Cristo l'uomo può trovare elevazione dalla propria solitudine però Gesù ha creato la comunione tra di noi a prezzo del suo sangue a prezzo della sua morte egli è dovuto morire per ricreare la comunione sulla terra beato che accetta la sua morte e beato chi entra nel mistero del colpota fratelli e sorelle entriamo qui nel mistero della morte di Cristo guardiamo a questo uomo che porta tutte le eternitudini del mondo all'uomo veramente solo egli è abbandonato dagli uomini tradito da Pietro da Giuda lasciato solo dai discepoli fissato solo tra cielo e terra abbandonato da Dio suo padre è l'uomo che ha preso le umane miserie tutte le solitudini dell'uomo ed è morto solo sulla croce ma con la morte egli ha dato vita alla Chiesa la Chiesa è nata là sulla croce dal costato di Cristo trafitto è là che è nata la Chiesa è nata la comunione è nata per l'uomo il luogo dove l'uomo può rifugiarsi e dove può trovarsi nuovamente in comunione con il suo Dio e con i suoi fratelli fratelli e sorelle e soltanto Gesù che può essere la via di uscita dalla solitudine dell'uomo e in Gesù che il Padre il Figlio e lo Spirito Santo colmono la solitudine dell'uomo e sono il controllatore dell'uomo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti